Perché è importante conoscere la natura dei nostri nei? Perché il sole che ci piace così tanto, che ci abbronza la pelle, che ci aiuta a stare bene, purtroppo può essere per molti anche la prima causa di tumori alla pelle, l'infimo melanoma. Questo video però ti aiuta a controllare i tuoi nei rassicurandoti, se è il caso, o ti incoraggerà sicuramente a mappare i tuoi nei al più presto possibile presso un dermatologo. Bene, è tempo, seguendo questo video fino alla fine, di controllare tutti i tuoi nei. Siamo tutti, chi più chi meno, tappezzati di nei. Nei di varie forme e colori. Quindi, cosa puoi fare per riconoscere la natura dei tuoi nei? Potresti autoesaminarti dove puoi vedere i tuoi nei? O chiedere a chi è con te di fare quindi col telefonino foto dei tuoi nei che hai per esempio nella schiena o in altre parti del corpo che non puoi esaminare. E poi rivedere questo video e compararli con quelli che sto per spiegarti. Bene, incomincia a conoscere i segni e sintomi dei tuoi nei che potrebbero richiedere l'opinione di un dermatologo. Ecco a cosa prestare attenzione. Neosimmetrico Hai notato se uno dei tuoi nei è asimmetrico? Potrebbe essere qualcosa che non hai mai considerato prima d'ora. Ma dovresti. Vari istituti clinici internazionali e nazionali, come l'Istituto Europeo di Oncologia, fanno notare come la simmetria, cioè un neo non uniforme, sia uno dei segni di diagnosi precoci del tumore della pelle. Controlla ora quindi i tuoi nei e se tu dovessi notare una simmetria, questo è un aspetto che potrebbe essere un segnale, come abbiamo detto, di avvertimento e sarebbe quindi opportuno consultare il tuo medico. Neo con bordo frastagliato Allo stesso modo, controlla se i nei sul tuo corpo hanno bordi frastagliati. Questo potrebbe essere un segno precoce di tumore della pelle. Paragona questo neo con i tuoi. Noti che uno o più dei nei siano frastagliati? Se è il caso, parlane con il tuo medico al più presto possibile. Bordi del neo sfocati La sfocatura dei bordi del neo è un altro segno di possibile tumore della pelle, di cui dovresti essere consapevole. Se ti accorgi che i bordi dei tuoi nei sono sfocati, ti consiglio di farli controllare da un dermatologo. Anche questo è uno dei segnali di diagnosi precoce a cui prestare attenzione. Piaghe che non guariscono Avere una ferita è spiacevole e l'unico conforto è sapere che prima o poi guarirà. Se però hai una ferita che continua a ripresentarsi o a non chiudersi, potrebbe essere un segnale di allarme. Anche questo potrebbe essere un aspetto preoccupante quindi della pelle e potrebbe essere un sintomo di tumore. Vale la pena parlarne col tuo medico per saperne di più. Lentigini marroni o nere La maggior parte di noi tende ad avere lentigini in qualche parte del corpo e questo potrebbe non essere un segno di qualcosa di più serio. Tuttavia, nuove macchie marroni e nere, simili a lentigini, potrebbero essere l'inizio di un melanoma maligno. Se inizia a notare i segni o lentigini che prima non c'erano, parlane con il tuo medico al più presto. Crescite ruvide e sollevate Il sintomo principale di questo tipo di tumore è una crescita rossa, ruvida e sollevata sulla pelle e si trova di solito nel cuoio capelluto. Se hai questo tipo di crescita, potrebbe essere necessario discuterne con il tuo medico. Macchia pruriginosa Se una crescita su qualsiasi area della pelle sembra pruriginosa, tipo una macchia che dà prurito, di solito rossastra, anche questo è un segnale di avvertimento e un sintomo che potrebbe essere un segno di fondo del tumore della pelle. Se noti che un'area specifica della tua pelle prude continuamente, dovresti informare il tuo medico il prima possibile. Dovresti anche assicurarti di quanto siano grandi ciascuno dei tuoi nei. Se uno o qualsiasi dei tuoi nei ha una larghezza superiore ai 5 mm, ciò potrebbe essere motivo di fondata preoccupazione. Anche il diametro, come tutti gli altri sintomi e segni, sono indicati dagli istituti clinici di dermatologia e oncologia internazionali e nazionali, come appunto l'Istituto Europeo di Oncologia, come uno dei possibili segni del tumore della pelle. Perciò, parlane col tuo medico il prima possibile. Dovresti anche fare molta attenzione al possibile cambiamento di colore dei tuoi nei. Prestare attenzione a una nuova tonalità è assolutamente importante. Uno dei principali segni del tumore della pelle è proprio il colore o il tono di un neo che inizia ad alterare questo aspetto. Monitora se i tuoi nei cambiano di colore e ovviamente parlane al tuo medico se questo è il caso. Nei che sanguinano Anche questo è un particolare segnale di avvertimento. Non lo ignorare. Se uno dei tuoi nei inizia a sanguinare senza un motivo apparente, allora dovresti cercare assistenza medica il prima possibile. Essere consapevole di questo chiaro segno ti aiuterà a parlarne con il tuo medico o meglio ancora, direttamente al tuo dermatologo. Crescite simili a verruche Le screscenze sulla pelle indicano problemi cutanei. Ad esempio, se appare una crescita simile a una verrucca, potrebbe essere un segno di tumore della pelle, specificatamente di carcinoma a cellule squamose, quindi pallane al tuo medico. Nei rosa, grigi, rossi o blu Controllare i cambiamenti nei nei è un modo saggio per rilevare il tumore della pelle. I nei rosa, grigi, rossi o blu potrebbero essere segni di un tumore della pelle. Perciò, se uno dei tuoi nei presenta una tonalità diversa del solito, pallane al tuo medico. Piccoli grumi lisci e lucenti Un altro dei principali segni del tumore della pelle che poche persone conoscono sono piccole e medie macchie o grumi lucenti che potrebbero apparire molto chiari o rosa o rossi. Anche se potrebbero essere poco appariscenti, questi sono un altro potenziale segnale ed è quindi consigliabile consultare il tuo medico per una visita di controllo. Una sensazione di bruciore Se hai una sensazione di bruciore in un neo o nella pelle vicino a un neo non ignorare il problema. Quando un neo inizia a causare dolore o a bruciare potrebbe essere un ennesimo e precoce segnale di tumore della pelle. Pallane quindi al tuo medico così da chiarire il problema. Formicolio intorno ai nei Se un tuo neo o l'area circostante inizia formicolare potrebbe essere un sintomo di tumore della pelle. Assicurati di prendere nota di questa sensazione e della sua frequenza. Il passo successivo è ovviamente parlarne con il tuo medico. Aree crostose della pelle Se noti un'area crostosa della pelle che può essere sollevata o meno potrebbe essere una forma di cheratosi. Non rimuovere la crosta. Se la togli non solo riapri la ferita e lasci penetrare i batteri ma provochi anche una ferita più grande. Questo potrebbe essere un segno di calcinoma basocellulare un tipo di tumore della pelle da riferire al tuo medico il prima possibile. Ferite aperte e ulcerazioni La pelle a volte potrebbe impiegare più tempo del dovuto per guarire. Se hai un'ulcerazione o una ferita aperta che non riesce mai a chiudersi allora questo potrebbe essere un segnale di allarme e un segno precoce di tumore. Non fare il fai da te consulta il tuo medico che è la cosa più saggia da fare. Macchia rossa sulle braccia sulle spalle o gambe o sul petto Un altro potenziale segnale di avvertimento del calcinoma basocellulare è una macchia rossa sulle braccia sulle spalle o gambe o sul petto. È fondamentale esaminare costantemente la pelle per assicurarsi che non compaiono eruzioni cutanei o segni misteriosi. Se noti dei segni strani parlane al tuo medico. Cambiamenti nella struttura del Neo La consistenza di uno dei tuoi Nei è cambiata? Questa è una delle cose che dovresti cercare di valutare molto bene. Ricorda che il melanoma si modifica in colore, forma o in superficie in un tempo relativamente breve mesi a volte in certi casi perfino settimane. Se vedi un tuo Neo che cambia d'aspetto allora dovresti rivolgerti al tuo medico il prima possibile. Nei che trassudano Un altro possibile indicatore di tumore della pelle è uno dei segni più visibili ed è un Neo che trassuda. Il liquido che fuoriesce dal Neo potrebbe essere pus, sangue o un fluido di colore chiaro o scuro. Anche in questo caso, ovviamente, dovresti consultare subito il tuo medico. Fattori chiave fondamentali Evita l'esposizione diretta prolungata al sole durante le ore più calde. È ovvio, le ore centrali della giornata quando i raggi UV sono più perpendicolari quindi alla superficie terrestre perciò più intensi e dannosi. Indossa un cappello ed occhiali dal sole ed abiti leggeri. Utilizza crema solare ad alta protezione e applicala regolarmente più volte al giorno specialmente dopo un bagno o una doccia. Segui una corretta alimentazione per proteggere quindi l'interno della tua pelle grazie all'apporto di vitamine. Dai un'occhiata al video che apparirà qui, qui sopra al termine e controlla la tua pelle come ho descritto durante questo video. Se vuoi approfondire l'OMS Organizzazione Mondiale della Sanità fornisce linee guida globali sull'esposizione sicura ai raggi del sole. Comunque, in linea di massima i nostri nei sono generalmente innocui anche se il primo segno di melanoma è di solito il cambiamento di un neopresistente. Questo non significa che tutti i cambiamenti siano segni della presenza di un melanoma e quindi necessariamente pericolosi. Non di meno, noi tutti dovremmo controllare regolarmente i nostri nei e conoscerli bene riguardando regolarmente questo video seguendo la regola ABCDE spiegata nel video cioè Asimmetria, Bordi, Colore, Dimensione ed Evoluzione del Neo e desidero enfatizzare nuovamente il fattore centrale chiave di farti fare una mappatura da un dermatologo di fiducia per la tua tranquillità al più presto possibile perché è la cosa più saggia da fare. Se poi ti interessa perdere peso e grasso addominale nei fianchi, nelle cosce, nei glutei allora questo video ti spiega esattamente come fare senza troppi sforzi. Grazie a tutti